Ok, ciao. Voglio farti qualche domanda un attimino, siamo dietro le quinte del Festival Bard, le domande un attimino da amici, siamo amici. Salutiamo, ciao a tutti. Mi sembra giusto. Senti una cosa, tu quest'anno hai scelto una canzone di una difficoltà incredibile, perché è una canzone che se non ti si vede vale la metà. E questo è un complimento che ti faccio come artista, come look, quello che si chiama oggi look. E ci sei riuscito, ce l'hai fatta alla grande, quale pensi che sia la ragione di questa cosa? Ma io penso che questa canzone non sia difficile per nulla. È intima, è semplice, non è da ballare, bisogna ascoltarla, bisogna sentire il testo, bisogna seguirla, sentirla almeno tre o quattro volte. Ma forse diciamo che è una canzone vera, io ci tengo a dirlo che questa canzone è stata scritta la musica mia e il testo in collaborazione con Franco Migliacci, e quindi è il primo apporto così. Vecchiamo il paccio a Franco Migliacci. Ma perché dite tutti così? Cambiate gli nomi, sono sempre volpe. Lo dicono anche di me quando non sono i video, perché sono una vecchia volpe. Senti una cosa, quale pensi che sia, a parte il fatto che sei un bel ragazzo, a parte le doti indubbiamente di showman e di cantante che hai veramente eccezionali, quale pensi che sia questo successo che hai nei confronti delle donne di tutte le età, perché non becchi le ragazzine giovanissime, le becchi tutte. Mi stai facendo un sacco di complimenti. No, 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 ti sto dicendo la verità, se non ho detto i lavori ho il diritto di farlo. Ma direi che così, penso di essere una persona che ha tanta voglia di comunicare a tutti quanti, comunicare forse anche a livello di generazioni differenti, perché penso di portare un discorso positivo, e questo fortunatamente il pubblico se ne accorge. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.